Manette ai polsi di un 39enne di Batipaia. Giovedì sera, dopo un lungo pedinamento, l'uomo è stato arrestato sul posto di lavoro dai poliziotti del commissariato diretto dal vicequestore Imma Acconcia. E proprio nell'azienda in cui lavorava l'uomo aveva messo in piedi una florida attività di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato tre stecche di hashish nascoste all'interno di un pacchetto di sigarette. Dopo hanno perquisito anche l'abitazione del pusher dove hanno trovato un coltello a serramanico intriso di droga. Lo spacciatore adesso è a disposizione del magistrato.